Musica Martedì 12 dicembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Oggi le cronache raccontano il giorno del funerale, quello di ieri pomeriggio per il sindaco di Spoleto Cardarelli, morto improvvisamente domenica mattina nella propria abitazione. Ieri c'erano le istituzioni dell'Umbria al funerale presso il Duomo di Spoleto con la messa ufficiata dall'arcivescovo Boccardo. Questo tra gli argomenti, ma poi si parla di cronaca, fortissimo vento che spazza tutta la regione già da ieri ed anche oggi, danni in particolare, alberi crollati. Ma ci sono delle zone tipo quelle appenniniche dove il vento ha soffiato quasi a 100 km orari, davvero da record. Di questo parleremo, di molto altro. Vediamo le prime pagine dei quotidiani partendo dal Corriere dell'Umbria, che apre con assenze per malattie e record. I dati dell'Inps e del pubblico impiego Umbro nel 2016 confermano la tendenza nonostante la lieve diminuzione. La fotonotizia è proprio dedicata al funerale a Spoleto per il sindaco Cardarelli, una città in lacrime saluta il suo sindaco. E poi ancora da Spoleto, ma la storia viene dal campo di calcio di Castel Ritaldi, picchiato negli spogliatoi. Il giocatore sarà operato ancora a violenza per una partita di calcio a Castel Ritaldi. Sono intervenuti anche i carabinieri per salvare un calciatore assediato negli spogliatoi. Umbria, l'università, la regione non accettiamo ingerenze e poi da Foligno non ci saranno feste di Capodanno in piazza. Da Gualdo Tadino la storia di una disabile che non ha un'auto adeguata per sostenere l'esame per la patente di guida. E ancora Deruta, Latri assaltano il cimitero e rubano in quattro cappelline. La nazione apre invece con il mondo del turismo, alberghi stellari. La regione incentiva la qualità degli alberghi per portare più visitatori. Siamo nel territorio del Trasimeno, cacciatore aggredito da cinghiale. L'animale gli stacca un dito, Spoleto in lacrime per il sindaco Buono. Spazzati dal vento, folate a 100 km orari. E poi emergenza inquinamento nella concaternana dove viene dichiarata guerra allo smog. A Collestrada, sull'arrivo dell'Ikea, il PD fa muro dicendo i piccoli negozi rischiano di chiudere. Il messaggero tasse 30 rottamazioni al giorno. In un mese mille evasori chiedono le agevolazioni legate alla nuova sanatoria. E poi grida la bufera, lo vedete nelle immagini. Il forte vento che si è abbattuto sull'Umbria con raffiche che hanno sfiorato anche i 100 km orari. E poi l'inchiesta sulle farmacie e sui favori. La regione ignorò l'incompatibilità di Perelli. Contro l'ex dirigente della regione c'era anzi un esposto di Federpharma già dal 2008. Perugia, prigionieri del parcheggio in sei addirittura per sollevare un'auto. E' accaduto anche questo. E poi l'addio a Cardarelli, un vuoto incolmabile. A Spoleto, tante le persone che hanno partecipato ai funerali del sindaco. Andiamo a vedere il meteo, che cosa dovremmo aspettarci. Per oggi in particolare dalle ore 12 sono previsti piovaschi, ma anche in alcuni tratti della regione piogge intense per tutto il resto della giornata. Le nevicate in realtà saliranno di quota perché le temperature sono abbastanza miti. Un miglioramento soltanto nella giornata di domani. Nel dettaglio le pagine di cronaca regionale partendo dal Corriere dell'Umbria. Assenze per malattie. Il comparto pubblico si conferma da record. Il dato IMS dice per il 2016 che è in lieve diminuzione il comparto pubblico per quel che riguarda i giorni di malattia, ma resta comunque sia il comparto dove ci sono più assenze dal lavoro per malattia, 11.000 casi in più in 4 anni. I dati ovviamente nelle tabelle. Caro bolletta rifiuti, accuse dei comuni contro il gestore. Sappiamo che nei prossimi mesi dovremo attenderci un rincaro delle bollette dei rifiuti. Causa l'innalzamento della tariffa da parte delle società che gestiscono lo smaltimento. L'istruttoria con cui lauri l'autorità regionale d'ambito in merito ai rifiuti respinge le richieste di adeguamento tariffario arrivate dal consorzio GEST parlano di 3.600.000 euro di aumenti che vengono contestati dall'Auri. Insomma non si può aumentare così tanto la bolletta degli utenti secondo Auri verso la gara unica dei trasporti dentro anche gli scuola bus. Parla l'assessore regionale Chianella che in commissione regionale ha confermato l'ipotesi di creare una grande agenzia dei trasporti che si occupi anche di trasporto scolastico. L'ultimo abbraccio all'amato sindaco ovviamente siamo a Spoleto, l'arcivescovo Boccardo che ieri ha ufficiato la funzione religiosa per l'ultimo saluto al sindaco Cardarelli. Nella foto vedete tanti erano ieri i sindaci con la fascia tricolore che hanno partecipato alla messa erano presenti le istituzioni in particolare la presidente della regione Catiuscia Marini. Andiamo avanti sfidano la bufera e non lasciano la propria terra. Stiamo a parlare dell'area di Norcia. Il racconto di una famiglia, quella di Maria Santa Lorenzini, nursina, che malgrado non abbia più casa a Norcia, a Castelluccio di Norcia, torna con il marito a gestire le proprie proprietà, la propria terra, insomma la volontà di restare nel territorio dove ha vissuto da sempre. Questo per le pagine regionali del Corriere dell'Umbria. Nel dettaglio le pagine in evidenza della nazione ci parlano di alberghi e quindi in generale di turismo. Presto in arrivo alberghi più stellati. L'Umbria sceglie la strada del lusso. Di che cosa parliamo? La regione incentiva quelle attività alberghiere che decidono di puntare sul lusso, perché di fatto è un target, come dire, carente in Umbria. Una buona scelta secondo il mondo degli albergatori, ma c'è poi anche la testimonianza, per esempio di chi non fa albergazione di lusso ma vive comunque di questa attività. Siamo a Norcia, il mio agriturismo è terremotato, ma la burocrazia fa più danni. Parla la signora titolare della Tana dei Lupi di Norcia, che ovviamente ha la struttura inagibile, ha deciso di realizzare un ristorante in legno, ma la burocrazia, dice, è davvero insostenibile. Noi in marcia contro il crimine, ma la politica c'entra. Ben poco di cosa parliamo. Sabato prossimo, 16 dicembre, a Ponte San Giovanni è attesa la manifestazione di Casa Pound. È stata scelta a Ponte San Giovanni, è stato detto, perché di fatto è l'esempio del quartiere, secondo Casa Pound, diventato invivibile dopo l'arrivo di una immigrazione, anche clandestina, decisamente incontrollata. La manifestazione di Casa Pound ovviamente anima però, in senso contrario, le anime della sinistra e anche dei partigiani, l'associazione degli ex partigiani. La nostra città, dicono da Perugia, resta antifascista. È una città di pace, antifascista. CGL Dampi ritengono inaccettabile e chiedono alla Regione di impedirla la manifestazione attesa sabato prossimo da Casa Pound. Vedremo come finirà. Parliamo dell'inchiesta che ha interessato il mondo delle farmacie, degli appalti alle farmacie. Sappiamo che sotto inchiesta c'è un ex dirigente della Regione, Perelli, che avrebbe elargito favori. Bene, oggi vengono pubblicate alcune delle intercettazioni telefoniche di Perelli che diceva e siamo nel maggio del 2015, quando non sapeva di essere intercettato, li voglio far mandare in Sardegna. Quelli che dovevano andare in Sardegna erano i Nass, cioè i carabinieri che stavano indagando su di lui. Ancora per la Nazione e le sue pagine di interesse regionale, bocciati gli autobus. Gli studenti, che utilizzano in maniera massiva gli autobus per andare a scuola, bocciano il trasporto pubblico. I mezzi sono sporchi, in ritardo e stracolmi. E poi parliamo di minimetro. C'è un accordo sconto per gli avvocati. Potranno salire sul minimetro al costo agevolato di un euro. Ikea sappiamo che sta per arrivare nell'area di Collestrada. Il PD fa muro. Troppi rischi per le piccole attività del centro. Ieri sera c'è stata un'assemblea a Ponte Valleceppi organizzata dal PD. È stata molto partecipata con il Partito Democratico che ha ribadito. Ikea non è un insediamento commerciale come un altro. Ed è proprio per questo che la Giunta Romizi ha il dovere di rendere chiari e trasparenti gli obiettivi, i passaggi, i percorsi e le ricadute. Ancora abbiamo detto l'Umbria sotto la morsa del vento. Ieri, ma sono attese anche oggi, raffiche di vento anche vicino ai 100 km orari. In particolare questa quota è stata sfiorata a Giano dell'Umbria, dove le raffiche hanno raggiunto 95,4 km orari. Non è andata comunque molto meglio a Gualdo Tadino, dove le raffiche hanno raggiunto i 93,3 km orari. Dunque, attenzione. Ancora per le pagine in evidenza nella Nazione, l'incontro che si è tenuto a Perugia sul tema Falcone-Borsellino, il Soro Optimist Club ha ricordato i due magistrati. E poi, sempre a Perugia, pirata della strada, uccide la cagnolina di un noto personaggio perugino, Osvaldo, gara di solidarietà in città. E ancora a Perugia è attesa l'accensione dell'albero di Natale in piazza. Si tratta di un albero di Natale davvero da record, un abete di circa 20 metri, che ovviamente viene collocato in questi giorni molto ventosi, qualche difficoltà la segnaliamo. Per gli spettacoli, appuntamento a Perugia-Balanzano con Elio e le storie tese, l'appuntamento è per domani sera. E poi, invece, per questa sera alle 21 a Deruta c'è il giornalista Alvaro Fiorucci che racconta la sua Umbria attraverso i suoi libri. Questo era La Nazione, il messaggero per le sue pagine di interesse, diciamo così, regionale. Si parla in particolare degli sportelli per l'impiego. Sappiamo, infatti, che c'è una vera e propria riforma per creare un centro regionale per l'impiego stretta per i dipendenti. A giorni c'è l'intesa tra regione e sindacati per poter stabilizzare 150 addetti. 55 ne resterebbero fuori, sono dei precari storici per i quali ora si deve trovare la soluzione. Sarà un'agenzia regionale per l'impiego, quella a cui sta pensando la regione Umbria, dando attuazione alle norme in materia. Bene, queste sono le pagine regionali, ora nel dettaglio di quelle locali, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Siamo a Perugia, villette nel bosco, resa dei conti, lo ricorderete, il fatto riguarda una zona boschiva nei pressi di San Marino, nel comune di Perugia, con delle villette abusive, la lottizzazione entra nel vivo di un processo a carico di quattro persone, tra queste quattro persone anche un dirigente comunale. I ladri non trovano l'oro in casa, è accaduto in zona Elce e prendono abbastonate il cane. E poi dal tribunale, così la commercialista intascava i nostri soldi. Può capitare anche questo, quindi stati attenti a chi vi rivolgete. avevano pagato le tasse, ma di fatto risultavano evasori. Questo perché? Perché c'è l'ipotesi che la commercialista alla quale si erano rivolti questi contribuenti, di fatto intascava i soldi che le venivano versati per le tasse. Ai problemi delle periferie non si risponde con la rabbia, questa è l'opinione del PD in merito alla manifestazione di Casa Pound, attesa per sabato prossimo. E poi tuona il rettore dell'Università di Perugia, Moriconi, non accettiamo ingerenze politiche. L'Università replica alla Giunta regionale e alla Disu sul dibattito nato da un'intervista proprio del Corriere. Che cosa aveva detto il rettore dell'Università? aveva espresso la sua perplessità sui possibili tagli alle risorse da destinare all'Università nel prossimo bilancio regionale. Bene, gli avevano risposti politici, a sua volta il rettore dice appare inaspettata e scomposta la reazione della Giunta regionale. Domani alle 18 a Perugia, a Villaggio della Carità, ci sarà l'intitolazione di una sala a Giacomo Rossi e poi ecco come sarà Antoniola, la rotatoria di Antoniola. Sono iniziati i lavori di miglioramento del campo da golf. Nel 2018 aprirà anche il cantiere per realizzare in questa zona un resort a 5 stelle. Bene, ancora per le pagine locali. Siamo con il Corriere e andiamo ad Assisi. Premio agli Assisani nel mondo. Si comincia con Ermanno Balducci e poi Assisi, Albero si schianta sulla strada. Sono state chiuse al traffico alcune vie. A Bastia Umbra, Ponte sul Tescio, a Primavera finalmente si vedrà la luce. Il turismo per il Ponte dell'Immacolate è andato davvero bene. Finalmente i numeri cominciano a sorridere. E poi andate a Todi a vedere un presepe davvero unico. È il più grande d'Europa realizzato in Piazza del Popolo. A Città di Castello, alberi cadono a terra, bloccano la viabilità. Davvero ieri una giornata terribile per le grossissime, grandi, impegnative e soprattutto pericolose folate di vento. Ad Umbertide è la questione politica quella che tiene alta l'attenzione. Dopo le dimissioni forzate, si è detto di due assessori della Giunta Locchi, il PD ha provato a forzare la mano sul proprio sindaco, ma il sindaco non arretra. Il summit di ieri pomeriggio a Perugia con i vertici non risolve tutti i problemi aperti tra i due duellanti. A Città di Castello, vigili urbani, il comandante costa troppo. La proposta di Sassolini di Forza Italia al suo posto vanno destinati soldi, per esempio, per quattro vigili urbani piuttosto che per un comandante. A Gualdo Tadino, davvero questa storia toccante resta senza patente per colpa della burocrazia. è la storia di Samantha, una ragazza disabile di 18 anni deve sostenere l'esame di patente guida, ma di fatto non c'è a Gualdo una macchina attrezzata per la sua disabilità. Forse la troverà a Terni, ma ovviamente ci sono dei costi da sostenere, il che apre ovviamente l'interrogativo anche sulla necessità di garantire questo servizio anche a persone diversamente abili. A Nocera, una persona che era ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, viene colto nuovamente a spacciare e finisce in carcere. A Gualdo Tadino, impianto termico in tilta, la scuola di San Rocco non si va a scuola e poi ancora a Gubbio, la città torna a respirare con l'immacolata, tantissimi i turisti in città, inaugurati anche i presepi, e poi il canile di Gubbio. Si può fare molto di più l'appello anche degli amministratori comunali per dotare per esempio questo canile di un sistema di riscaldamento a tutela degli animali. Niente festa di Capodanno a Foligno in piazza, l'ho annunciato il sindaco, troppo gravose le norme di sicurezza. E poi il bagliocco d'argento va alla signora Maria Gambacorta, la cosiddetta tabaccaglia del fiume. E poi largo alle cialde di Santa Lucia, l'appuntamento domani 13 dicembre con la ricorrenza che viene celebrata al monastero. E poi ancora da Foligno, pratiche del sisma, ma ovviamente siamo al centro di protezione civile di Foligno, quindi parliamo dell'area del terremoto, l'andamento è lento, numeri massi e la scadenza per presentare le domande sulle pratiche del sisma è vicina. Ancora per gli spettacoli, giovedì appuntamento a Foligno con Annalisa Baldi e gli zero in condotta. Spoleto, timori alle stelle per la Mara, nei sindacati hanno indetto un presidio di fronte ai cancelli dell'azienda, garanzie su stipendi e tutela dei posti di lavoro. E poi questa storia che arriva da Casterri Taldi, giocatore picchiato negli spogliatoi, dovrà essere operato per le fratture, è accaduto lo scorso fine settimana, siamo in seconda categoria, un calciatore del Casterri Taldi è stato aggredito da due tesserati del Torgiano al termine di una partita davvero assurdo. Terni, area ambientale, caccia aperta alle risorse. Terni e non solo, anche Narni chiedono di avviare subito un progetto di risanamento ambientale della Conca, che sappiamo avere anche delle condizioni atmosferiche di smog davvero insopportabili, ieri c'è stato un summit a Palazzo Spada, c'erano regione comune di Terni e anche quello di Narni. Intanto però a Prisciano, quindi una frazione di Terni, compaiono polveri bianche che si depositano ovunque, sui pavimenti, sui tetti, un sottile manto bianco che evidentemente è fatto da polveri presenti nell'aria, che si deposita su tutto. Ci si domanda cosa possa essere. Una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco e poi ancora Terni al lavoro per mettere in sicurezza l'intera area della cascata delle marmore. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione per le sue pagine locali, in particolare ricominciamo dall'area del Trasimeno dove ancora una volta si parla di fauna selvatica, aggredito da un cinghiale inferocito. Per poco non mi ammazza, un giovane cacciatore è stato azzannato da un cinghiale inferocito che gli ha staccato un dito, ma poteva andare davvero molto peggio, è accaduto a panicale. I nostri primi 15 anni da instabili ad Assisi, il bilancio della direttrice del piccolo teatro, Angeletti, che è stato inaugurato il 12 dicembre del 2002. A Gubbio, turismo, un ponte lungo da record, hotel e ristoranti fanno il pienone, il sindaco, tutta questa gente è un bagno di ottimismo. Ancora, Nocera, spacciatore che era ai domiciliari, continuava a spacciare droga, a Gualdo Tadino l'appuntamento è venerdì prossimo con un convegno sul tema dell'emigrazione, immigrazione ed integrazione. A Città di Castello, sicurezza, l'allarme alle stelle, la città chiede più vigili urbani, i sassolini, andrebbero armati gli uomini della municipale. E78, il comitato ai sindaci, dice, collegamento prioritario con la A1 e poi andiamo ad Umbertide e dopo la crisi il PD si guarda in faccia alla riunione che si è tenuta ieri a Perugia, però è rimasta interlocutoria. A Foligno il Natale si accende di luci e colori, i bambini saranno protagonisti, ma abbiamo visto non ci sarà a Capodanno la festa in piazza. A Palazzo Trinci i ragazzi disabili diventano fotografi e presentano una mostra. E poi, ricostruzione post-sisma, sono stati approvati i piani per 150 milioni di euro. Ovviamente, la Nazione dedica alla pagina di Spoleto ai funerali del sindaco Cardarelli, folla commossa per l'addio a Cardarelli. A Terni la conca in trincea contro lo smog stretta su traffico e riscaldamento. Ieri c'è stato un summit proprio su questo argomento. Andiamo al messaggero, le sue pagine locali da Perugia. Mense di asili e primarie, uno su tre paga il ritardo. Il comune è costretto ad inviare ad Equitalia 700 nomi dimorosi. Ogni anno non sono davvero pochi. E poi, andiamo avanti, parliamo del supervento. Ieri una giornata davvero campale, crollano rami, corrente KO, disagi da Perugia all'Alto Tevere, da Gubbio fino al Trasimeno. Nel capoluogo il vento a 60 km orari, ma nell'Appennino si sono superati gli 80 km orari. A Gualdo Tadino stop lezioni alla scuola di San Rocco si sono rotte le condutture dell'impianto termico. A Umbertide nel PD arrivano segnali di disgelo. A Città di Castello una iniziativa davvero singolare di un parroco. Presepi high-tech e selfie in famiglia con immagini da proiettare in chiesa la notte di Natale per condividere con i fedeli della parrocchia le proprie realizzazioni della natività. Si chiama Selfie a Betlemme l'iniziativa ideata dalla comunità parrocchiale di Lama Pitigliano Celalba e Renzetti che è stata portata avanti dal parroco Don Francesco Mariucci. Davvero singolare ha invitato i parrocchiani a dare foto di selfie di famiglia ma anche foto dei propri presepi familiari verranno proiettati la notte di Natale in parrocchia davvero singolare. Gubbio l'Inps a Palazzo benvenuti questa è la novità che è stata portata recentemente dal sindaco. Andiamo a Foligno nessun evento in piazza per la notte di Capodanno il sindaco mi smette ha detto ci sono norme di sicurezza giuste ma assai complesse da applicare quindi per il momento niente. Abilitazione avvocati le prove di selezione si terranno alla caserma Gonzaga e poi Trevi la natività è allestita nelle vie della città a Spoleto le foto dell'addio al sindaco Cardarelli il vescovo ci mancherà il suo sorriso l'umanità la sua foglia la sua voglia di far del bene c'è stato anche il saluto da parte della produzione della popolare Finction Don Matteo che sappiamo svolgersi a Spoleto ancora Terni cascata negata ai turisti per colpa dei tagli alle corse comitive di viaggiatori rimaste in attesa per ore prima di raggiungere le marmore non c'erano gli autobus che le avrebbero dovuti portare sul luogo ci fermiamo qui per qualche momento restate con noi perché poi parleremo di sport un po' di un po' di